Massimo Giannini, c'è poi tutto il tema che questa settimana ha riguardato il presidente turco Erdogan e le sue dichiarazioni, lui ha chiamato Hamas liberatori, i terroristi di Hamas, Israele si sente giustamente accerchiato, è scoppiata anche una polemica con l'ONU, con il segretario generale Guterres, accusato di giustificare Hamas, alcuni dirigenti di Hamas sono stati ricevuti da Putin in Russia, oggi proprio Israele ha richiamato l'ambasciatore per chiarimenti, insomma la situazione è già fuori dai confini in qualche modo di Israele. Lo è totalmente ed è la ragione per la quale, almeno ripeto, in questa metà del mondo dovremmo cercare di mantenere la testa fredda, le parole di Erdogan sono state uno schiaffo profondo e scioccante se vogliamo, perché in un momento come questo definire da parte di Erdogan che gioca mille ruoli in commedia su tutti i fronti, compresa la guerra ucraina, i rapporti con Putin, lo sappiamo bene qual è il ruolo ambiguo del sultano di Istanbul, però sentirlo dire che quelli di Hamas sono liberatori e non sono terroristi e aggiungere, come ha aggiunto, che il responsabile dei massacri del 7 ottobre è l'Occidente, non è neanche ha detto Israele, è l'Occidente, è l'Occidente, questo ovviamente ci preoccupa in modo straordinario. Stiamo parlando di un paese nato e stiamo parlando di un paese che è la porta di ingresso tra Occidente ed Oriente, lo è sempre stata, quindi ha un ruolo strategico fondamentale. A questo si sono aggiunti altri due fatti che io ho trovato altrettanto agghiaccianti, oltre al vertice a Mosca tra il ministro degli esteri e il vice di Hamas, il vice di Yahya Sinwari, il leader di Hamas, ce n'è stato un altro il giorno prima a Beirut e noi abbiamo visto le immagini di quello che io definirei il salotto dell'orrore, dove erano seduti i signori tranquillissimi, esattamente, c'era appunto il segretario generale di Hezbollah, c'era il segretario generale del movimento Jihad Islamica e il numero due di Hamas, sullo sfondo c'erano appesi alle pareti due ritratti, uno era quello della Yatollah come Inni, che è il fondatore della rivoluzione comunista in Iran, e l'altro era quello della Yatollah Kamenei, tuttora autorità religiosa di quel paese, che è un regime. Ecco, tutto questo ci dà la sensazione davvero di un mondo a un passo, a un passo, dalla terza guerra mondiale, come la definiva Papa Francesco. E però, ecco, in tutto questo, perché dico mente fredda? Perché naturalmente la minaccia è enorme, ma se noi non capiamo che in questo momento è il dialogo che va rafforzato e anzi sfruttiamo tutte le occasioni per gettare altra benzina sul fuoco, l'assemblea dell'ONU è un esempio, Guterres è stato crocifisso per aver detto cose che sarebbero sottoscrivibili da chiunque, cioè non di meno i giornali occidentali e devo dire compresi i nostri, hanno diciamo manipolato quel messaggio, anche lì per esasperare ancora di più. Ecco, insisto, se non ci fermiamo noi siamo su un piano inclinato dal quale non si torna indietro.